Oltre 90 milioni e 700 mila euro di interventi finanziati e realizzati sul territorio per opere pubbliche, strade, scuole e patrimonio e 230 milioni e 250 mila euro di investimenti programmati che già dai primi mesi del 2023 genereranno significative economie per la provincia terramana. Sono i numeri del bilancio di fine mandato presentato dal presidente della provincia di Teramo, Diego Di Buonaventura. Io ho iniziato con i binari paralleli, l'ordinario, le tante buche, le tante strade di sestate che erano in giro e poi era il sogno di una provincia che cresce con le infrastrutture. Sapevamo e sapevate che c'erano opere pensate e finanziate 10-15 anni fa che non erano state mai realizzate. Una tra quelle era il famoso ponte ciclopoideonale che collegava con le nostre sette sorelle. E' un'opera che abbiamo cominciato, iniziato e realizzato e aperto. Ecco c'era il famoso ponte di Castelnuovo che io non inaugurerò perché sarà pronto per l'estate ma è partito il varo. Tra i numerosi argomenti trattati c'è anche la progettazione della panoramica di collegamento tra l'A24 e la montagna. Ma non ci siamo fermati qui perché l'idea senza aver paura e perché chi fa politica deve avere coraggio e quello che manca oggi alla nostra provincia il coraggio era di pensare alla famosa panoramica. Quella strada nuova che collega l'A24, adesso riapro il dibattito, a Montorrio perché parliamo di montagna. Ecco senza strada e senza infrastruttura la montagna non potrà crescere. E quella strada che era pensata tanti anni fa con una strada veloce l'abbiamo riconvertita in un mondo che è cambiato in una panoramica. Il presidente di Buonaventura ha voluto anche precisare il lavoro portato avanti in vista della riqualificazione della viabilità che interesserà anche il comune di Valle Castellana dopo le recenti problematiche. Oggi è innegabile che abbiamo meno buche di quelle che c'erano quattro anni fa e non ci siamo scordati perché giustamente adesso che mi sentite qualcuno inizierà a protestare per le strade di Valle Castellana, per qualche altra strada che nelle prossime primavere troveranno anche lì le strade nuove. Presidente ha qualche trammarico? Qualche rammarico lo dico subito. Ecco nella prossima primavera si chiuderà tutta questa storiaccia di questa società della GST che è nostra insieme ad altri enti pubblici che gestisce il famoso comprensorio di Pratititivo. Però si aprirà un'epoca nuova, però anche qui grazie alla Regione abbiamo investito con 2 milioni e mezzo di euro una forma di turismo diverso, perché abbiamo progettato nuove forme di turismo. Io sono felice che abbiamo fatto più di quello che abbiamo comunicato. Ecco la percezione che esistiamo. È normale, non siamo arrivati a tutti ma siamo arrivati a tanti. Grazie. 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 Grazie.